Il sindaco di Agrigento, Franco Micichei, interviene nel merito dell'andamento della pandemia coronavirus in città. Ieri mi pare che abbiamo avuto soltanto un nuovo positivo, mentre ci sono stati, se ricordo bene, dieci guariti o giù di lì. Il trend è leggermente a scendere, quindi questo sta a dimostrare che la pandemia, meno qui all'interno della nostra città, si va contenendo. Spero che questo sia anche frutto di una maggiore responsabilità degli stessi cittadini, si sta capendo finalmente l'importanza e la gravità della pandemia. Speriamo bene, speriamo anche perché tengo tantissimo al settore commerciale che sta soffrendo questa crisi economica e speriamo al proletto di uscirne fuori.